Ciao ragazzi, sono Fabrizio per tornare a un nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati qui sul mio canale dopo quanto? 4-3 mesi di inattività? Beh, sapete comunque già la risposta di perché. Però sono alternato con qualcosa di nuovo, come potete vedere. Ho in alto a destra, in alto a sinistra, poi vedrò dove metterla, la facecam. Questa però non è ovviamente la webcam proprio della Play, è soltanto perché sto registrando da due dispositivi diversi. Questa qua la sto registrando col telefono, quello che potete vedere. Mentre il gameplay la sto registrando con SharePlay, e ho fatto la rima. Oggi siamo su... Dovinate un po'? Su Rainbow Six Siege. Quindi andremo a fare una classificata e vediamo un po' cosa succede. Livelo 75, rame 4, mi vergogno... No, rame 4, bronzo 4 volevo dire, mi vergogno però vabbè. Purtroppo è così, ormai la gente non sa più che cazzo fare, quindi sta lì, lì per lì. Inaguato A colpirti la testa Mentre tu ovviamente Ricolpisci la clavicola e non muoiono Se mi trovi una partita A gioco Mi fai pure felice Tanto felice Ragazzi mi raccomando Per il prossimo episodio raggiungiamo In chi ci mi piace Non penso che ci sia tante difficoltà Ne raggiungerli no Fatemi felice Per il giardice mi piace Per dover guardare lì ma sto guardando lì Non so perché Sì ma gioco se gli trovi magari una partita Ne sarei felice Come fare a trovarmi un minuto di partita Cioè spiegami Dovesti cercando prima Forza gioco dai Dai Oh Allora Diciamo Diciamo Un po' Così così Ma si può tentare Si può tentare Allora Diciamo Sì Si potrebbe si potrebbe anche fare E ne hanno fottuto il mira Giustamente Allora a suo punto ci prendiamo Liger Semplice Smoke, pestle, pulse Diciamo Una squadra un po' Così così Allora ragazzi Io vi Vi dico già Vedete di non fare figure di merda Sparate bene Altrimenti Mincazzo Non dobbiamo fare brutta figura Perché Travolo È il primo episodio Con la webcam Quindi Non dobbiamo fare figure di cacca Ma che cazzo fai Trimone di merda Eh ho capito Che ti dispiace Ma vaffanculo E già dobbiamo stare Con i mongoloidi Che ti attacca Allora Dove possono Eh sì Uno lo mettiamo esattamente Perché altrimenti Ci mettono Un fuse Ce l'abbiamo Nel capranzi Allora Fantastico Mitico Abbiamo cominciato benissimo Belli due mira Messi là Proprio Fantastico ragazzi Abbiamo già incontrato qualcuno Di Pazzesco Posso sapere da dove Ah dalla finestra Fatemi vedere Forza Sì sì Vabbè Ma più nascosto Di così Magari Cioè ma Allora Cioè avete visto Come si è organizzata La mia squadra In difesa Cioè avete visto Pure voi Sì ok Pure io Non è che Non è che sono il fenomeno Di chissà che Ma pure la mia squadra Cioè Il mira Ha messo due mira Vicini Che cazzo di senso c'ha Non c'ha nessun senso Quindi quel cazzo di senso Non metti a fare Oh Non lasciamo a me Mira Ovviamente avremmo vinto E mi fottolo pure lascio Ok Va bene Va bene E ci mette Ci mette un blackpist E che possiamo fare Ci mette un blackpist Gua 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 Guarda Termaitibana Oh Almeno Ok Va bene Già così meglio Allora Ciao Oh che bellezza Scusate Ah Vabbè Allora Vediamo Un po' Tanto così Per fargli capire il comando Allora Allora Troniamo Vediamo Oh Bene ragazzi Bravi 5.4 Vai Qui non c'è proprio nessuno Perfetto Non c'è proprio nessuno Non dico Bravi La mira ragazzi è quella che è Quindi scusatemi Se vedete che faccio cagare Ma non gioco Non gioco sempre Quindi Scusatemi Per la mira Oppropiosa Sì ma sto eco di merda Finisce oppure no Sì sto individuando Da tua madre Sono stato individuato Devi vedere come mi individuo Si Io giustamente Andiamo No 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 Voi non andate Io mi va rimessa Non me ne frego un cazzo Avete difeso come al cazzo vostro Quindi noi stiamo al bar Vi metto io mira E tu più così No no Guardate che gente Rimetto un rimessa Avete difeso come al cazzo Mi spiegate cosa serve andare di nuovo qui Non serve a niente E loro cosa fanno Rimettono lì giustamente Ci hanno aperto In quattro ci hanno aperto E loro cosa fanno No andiamo Torniamo qua Tanto abbiamo giocato bene Abbiamo giocato bene qui Tanto Cosa fai Dove me lo metto il mira Dove me lo metto il mira Nel culo me lo metto Dove me lo devo mettere il mira Te lo metto nel culo Te lo metto nel culo Dai Cioè Vedete con che gente Devo giocare io Cioè guardate con che gente Devo giocare io Cioè ho che lo metto Magari me lo metti Gioco eh Non lo so Quando me lo vuoi mettere Non si sfonda Questa barricata di legno Questa barricata di legno L'ha creata Hulk in persona Ma qua il mira non è male Non sono peggio Allora con calma eh Molto bene Abbiamo cominciato benissimo Ottimo Che crepa va Tranquillo no 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 Tranquillo zio Aspetta Vedete cosa faccio eh Sì ma tre ore Sto metto di merda Sì no Cioè volevo fare una bella Cosa figa Invece no Eh perfetto Ho fallito Ho fatto una figura di merda Perfetto Bravi 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 ragazzi bravi Dove cazzo è lui Bravi Oh Finalmente mi ho diviso un po' meglio Ma so perché ho messo io il mio mira qui eh Perché altrimenti se mi metteva quel deficiente Probabilmente Cioè aprivano in quattro Cioè avevo il culo così ce lo faceva Ragazzi come prima Mi raccomando Così almeno li spaventiamo E quitano tutti Vedete quello là che ha abbandonato un avversario Ah sono rimessi nuovo qua Perfetto Allora Vediamo 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 Allora Con calma Si trona Con calma E si vede dove stanno i nemici Ho dato il sbagliato Ragazzi siete Non siete scarsi di più Ah eccolo qua Ma la mira di Gesù Si vabbè ragazzi però eh Cioè io dico si Mannaggia i bovini Suini obesi Dai 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 zio dai Uno contro uno Dai Dai Uggi Ok Ok va Facciamo rimettere Scimera Allora sto punto Così Allora Magari ti sposti Grazie Ti vuoi spostare Cioè non solo si è messo Tachanka Capito Che non serve a una beata sega Ah beh Non barricate qui Se barricate qui Io vi ammazzo No 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 Non barricare Non Non barricare No Giù Io vocabulary Li voglio uccidere tutti No Io li voglio uccidere tutti Li voglio uccidere tutti Li voglio uccidere Che cazzo banichi qui Cosa me ne faccio adesso del mira Cosa serve Eh Andiamo a vedere il contenitore di sta minchia Eh No i miei colpi Non esistono I miei colpi sono quelli della chicco I miei colpi sono quelli della chicco ragazzi Madonna mia Che schifo Eh grazie Ma c'ho due di vita I miei colpi non li prendono mai I suoi invece no Mi devono copiare giustamente tutti Mi devono prendere I miei no I miei colpi non arrivano Perché i miei sono quelli della chicco Sì guarda questo che fa qua A trovare pure una squadra di mongoloidi Mustiefe Mustiefe sta solo morendo Ma cosa fai Ma cosa stai facendo Cosa stai facendo di importante nella tua vita Cosa stai facendo di importante 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 E' possibile ragazzi C'è greppo non è veramente possibile E' davvero possibile E' davvero possibile E' davvero possibile un po' 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 il no scusa posso capire voglio vedere no no ah così così mi prende in testa così io faccio lo stesso con quell'altro là la finestra no ma giustamente no lui mi deve prendere in testa mentre io no giustamente arrendersi tua madre si arrende ma vaffanculo va prima fai le figure di me eh guarda quest'altro a me dispiace portarvi questi contenuti a me dispiace 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 davvero tanto ma se si trovano i coglioni che non giocano come possiamo vedere io non posso farci niente mettiamo prendo il mira e barricano accanto gli altri si prendono il mira e mettono due mira vicini fate schifo ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto cosa che a me sicuramente no però almeno vi porto qualcosa sul canale almeno di avervi fatto un pochettino divertire noi ci vediamo ad un prossimo video di rainbow sperando che non ci incalzeremo più sinceramente ciao ciao ragazzi